Serie C, Serie C, con questo canto gli spalti gremiti, il palazzetto dello sport e il viale di Ulivi hanno festeggiato lo storico squadrone che oltre dopo due ore di battaglia in campo ha trionfato con il diretto rivale di Tauria Nova che ha dimostrato tutto il suo valore ed è uscito dal campo a testa alta. Ma nulla hanno potuto contro questi autentici gladiatori che grazie ad una perfetta simbiosi tra giovani e veterani con un gioco corale e entusiasmante hanno portato la cittadina al primafino assoluto e alla promozione diretta in Serie C. Una partita al cardiopalma ricca di emozioni con il Roccella che ha fatto tutto da solo, fino a che ha mantenuto la concentrazione e ha surclassato gli avversari con la netta vittoria nei primi due set. Poi il calo fisico, degli errori quasi clamorosi, hanno portato il Tauria Nova alla rimonta e per metà del tie-break hanno fatto temere nel ribaltone. Ma proprio nel momento cruciale del cambio campo, il Roccella con le battute del giovanissimo bomber Gugliotta, i colpi inauditi di mister Carrozza e un disegno strategico che ha fatto la differenza per tutto il campo. Il campionato mette la freccia e manda gli avversari al tappeto e porta un paese intero alla festa e alla gioia. Il campionato mette la freccia e manda gli avversari al tappeto. Il campionato mette la freccia e manda gli avversari al tappeto. Il campionato mette la freccia e manda gli avversari al tappeto.